Salve amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Qualcuno mi chiedeva di mostrare un prodotto che qualitativamente sia efficiente e ovviamente a livello di denaro sia più economico possibile. Ecco il video, ossia un cofanetto fatto in una similradica comprato da Amazon a una cinquantina d'euro che veramente consiglio vivamente di acquistare perché è veramente ben fatto, qualità prezzo è perfetto perché 50 euro sono veramente soldi ben spesi in quanto ce l'ho da molto tempo, mantiene molto bene le penne, non mi dà problemi di umidità, non mi dà problemi di niente e ha 23 posti. Ne abbiamo 12 nella parte superiore, vedete questa si apre, questo è un vetro che serve per preservare le penne dalla polvere e poi abbiamo il cassetto sotto che pure si apre, come potete vedere, vi faccio vedere meglio, dove potete mettere altre penne. In totale tra sotto e sopra potete mettere 23 penne. Questo l'ho preso da Amazon, vi ripeto che i prezzi di queste vetrinette oscillano, diciamo, da una, anche ho trovato qualcuna una trentina d'euro ma con meno posti, fino ad arrivare anche a 400-500 euro, benissimo, perché ci sono alcuni marchi tipo Pelican, Leonardo, Montegrappa, vabbè, ci sono alcuni marchi che producono le vetrinette. Oppure ci sono proprio dei negozianti stessi di penne, stanno producendo queste vetrinette con il loro nome, cioè del negozio, che le fanno fare ovviamente da falegnami e artigiani, quindi fatti a mano, e costano veramente molti soldi. Questo è sinceramente il migliore, secondo me, che ho trovato sul mercato, perché è veramente ben fatto. Vedete, è una radica, una simirradica, ovviamente sarà un materiale non pregiatissimo, però è veramente ben fatto. Veramente fate bella figura, chiunque vede questo cofanetto rimane sbalordito, perché piace molto. Vedete come dall'alto riuscite ad ammirare la bellezza delle penne che voi potete mettere. Io consiglio di comprare questi qua generici, perché? Perché se non siete appassionati di penne di altri marchi, per esempio avete in testa, soltanto faccio un esempio banalissimo, le Pelican, ecco Pelican produce proprio questi cofanetti. li trovate benissimo a 300 e passa euro, cioè veramente molto più di questo, e qualitativamente potrebbero essere migliori. Io ne ho visto uno, solo che ci hanno scritto Pelican, qui col Pelicano, quello che aveva a disposizione negoziante, lo vendevamo sempre 3,70 circa, e 350, 3,70, cioè insomma questa è la media di questi cofanetti firmati, che sinceramente vanno bene per i collezionisti di quel marchio. Però se dovete mettere altre penne di diversi marchi all'interno di un cofanetto che si chiama Pelican, personalmente io non lo so, non riuscirei a spendere queste cifre per un cofanetto, e mettere qualsiasi cosa dentro. Se sono solo un collezionista di Pelican va più che bene, ma se devo mettere altre penne di altri marchi, non lo so, sembra anche strana come cosa. Infatti qui, avendo un generico, cioè che non ha un marchio preciso, cioè diciamo affermato nelle stilografiche, abbiamo una Leonardo, una Visconti, una stipula, una penna antica, poi vi farò vedere un video anche su questa, poi abbiamo una 149, un'altra Pelican, abbiamo detto una Montblanc qui, una Montegrappa, una Leonardo, e poi un'altra penna così insomma. Io le ho tolte alcune perché volevo farvi vedere, vedete gli spazi vuoti, qui potete mettere penne, e qui potete usare il cassetto anche per altro, magari ci mettete i pannetti per pulire la celluloide, oppure potete mettere quelli là che diciamo fatti di cotone, che proteggono le penne dalla polvere, cioè i contenitori fatti di velluto, cioè insomma gli astucci di velluto, quindi insomma questo qui qualitativamente una cinquantina di euro vale tutti e 50 euro. l'ho preso da Amazon, felicissimo, fa bella figura, e chiunque lo osserva veramente rimane sbalordito per la bellezza di questo cofanetto. È una specie di radica diciamo non molto ben fatta, di colore tipo amaranto, è molto 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 signorile, è bella bella, fate bella figura, gli vale tutti questi soldi spesi, e quindi il mio consiglio è acquistare una di queste, se non siete collezionisti di un solo marchio, potete anche usarla per chi usia solo per dire Montblanc, e quindi va bene lo stesso, ma se per esempio usate delle Pelican e vi amate solo Pelican, potete anche spendere 300 e passa euro per comprarvi quello della Pelican, qualcuno forse lo mette in offerta. Ripeto, ci sono anche dei negozi che producono questi cofanetti, che magari ci mettono il loro marchio, c'è il marchio del negozio di penna stilografica, io sinceramente sono amante del generico, e quindi qui ci devo mettere qualsiasi cosa, senza paura che si rompa la vetrina, senza paura che si rompa la radica, perché poi se mi devo comprare una cosa di 400 euro, 300 euro, e c'è il problema che si può spaccare il vetro, sinceramente non li spenderei. Ok? Oltretutto questa mantiene molto bene le penne, questa mia che ho, veramente le mantiene molto bene. Vi consiglio a tutti coloro che non vogliono ingombri, o molti non conservano le scatole, perché non si interessano di questo, cosa che io invece conservo molto maniacamente, diciamo la cosa, sono molto managale sulla conservazione dei prodotti, della scatola, delle garanzie di quant'altro, e quindi per coloro che invece sono un po' più così alla mano, dice sì, ma io voglio le penne fatte vedere tutte assieme, senza impegno, compratevi uno di queste, andate sul sicuro, fate sia bella figura, presentate le vostre penne, vedete come sono belle quando uno le guarda dall'alto, non avete problemi di niente, e si vedono tutte le specifiche della penna. Consiglio di mettere sempre i tappi rivolti con la clip verso sopra, così la penna appare meglio e non crea problemi al velluto sotto, perché se è fatti di velluto, diciamo, il pannetto, diciamo, dove il contenitore della penna è fatto di velluto, e quindi veramente un prodotto questo eccellente. Spero che il mio video vi sia piaciuto, se avete domande fatele, però il mio consiglio è di spendere massimo, ma massimo, massimo per cofanetti per portapenne, che abbiano almeno 15 posti, quindi abbiamo, mi sembra, 12 sopra e 11 sotto, quindi 23 posti, quindi per massimo spendere 100 euro per almeno 15 posti. Se costa di più, diciamo, il prodotto e ha meno posti addirittura di 15, io ve lo sconsiglio, poi ognuno faccia sempre le sue scelte. I miei, ripeto, sono solo consigli utili per farvi andare nel miglior modo possibile e di fare comunque la migliore figura possibile, cioè positiva ovviamente. Quindi compratevi uno di questi dai 50 ai 100 euro, che abbia almeno una quindicina di posti. Se il prezzo va oltre i 100 euro, state attenti ai posizioni, materiali e quant'altro. Grazie per la visualizzazione di questo video. Se il video vi è piaciuto, potete ovviamente commentare e coloro che non si sono iscritti, iscriversi. Se avete domande, fatele, non c'è problema. Comunque questo è consigliatissimo. Grazie. 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 Grazie.